salve ragazzi benvenuti al canale oggi raga un pochettino ambiente inconsueto perché partiamo di nuovo dal menu principale perché praticamente è passata una settimana da quando abbiamo iniziato la mappa francese quindi dall'uscita di farming è passata una settimana oggi è lunedì e quindi io apro ufficialmente una nuova serie allora che serie vado ad aprire vado ad aprire praticamente andando su carriera intanto prendiamo lo slot vuoto facciamo nuovo agricoltore e vado ad aprirmi la serie erlingrath facciamo praticamente partiamo con la stagione 2 della mappa alpina l'unica mappa che sarà su live sarà appunto la mappa americana qua teniamo vabbè tutte le mode già che abbiamo e partiamo immediatamente ok allora ho creato il mio personaggio divisa decisamente molto più invernale quindi confermiamo quello che è il nostro nuovo personaggio vabbè se non conosci ancora le basi del gioco a me non mi interessa perché le basi le conosco wow che meraviglia vedere di nuovo la mappa erlingrath allora devo dire tutto sommato a parte per il recinto che è nettamente differente e qualche piccolo lag però devo dire che la mappa erlingrath non è cambiata decisamente per niente anzi direi che è totalmente uguale totalmente addirittura anche il la carica è ancora qua non ricordo come avessi messo tutte le varie robe però per il momento mi piace vederla così vediamo poi se più avanti mi verrà la voglia di modificarla anzi probabilmente sì perché già vedere sto coso qua in mezzo ai piedi proprio non è il caso comunque tour veloce veloce di quelli che sono a volo far vedere anche il personaggio in gioco bellissimo tour di quelli che sono i mezzi vabbè sempre i soliti mezzi praticamente della mappa erlingrath non è cambiato nulla praticamente allora quindi facciamo una cosa dato che i mezzi non sono cambiati decisamente direi che shop alla mano e andiamo a modificare quindi a vendere tutti i nostri mezzi e a comprare dei mezzi decisamente migliori quindi vendiamo tutto allora ho venduto quasi tutto le uniche cose che ho ottenuto sono queste cose qua raga che è la falciatrice a mano vabbè la ebi la tengo perché è un must di del dlc alpino la falciatrice quella davanti poi andremo a prendere quella dietro il cassone da carico l'imballatrice che questa qua poi il la botte il caricatore frontale che adesso non so se ci servirà però per il momento l'ho tenuto abbiamo praticamente guadagnato 319 mila euro abbiamo in tutto venduto per 219 mila euro ok devo dire volevo vedere un attimino allora la mappa tutto sommato beh mi pare molto diversa questa parte non ricordavo ci fosse o sì no mi sembra di no tutta questa zona qua tutte queste zone qua non c'erano assolutamente da quello che ricordo noi avevamo questi lotti di campi qua il 13 l'11 il 12 il 18 il 20 l'unica cosa che ricordo sicuramente è che avevamo questa zona qui è che ancora è identica non è cambiato niente sia questa che questa zona qua che sicuramente andremo a riprendere anzi forse già abbiamo esattamente questa prima zona già abbiamo sia questa zona sopra che ovviamente la zona sotto alle mucche praticamente tutta questa zona qua che noi poi qua avevamo adibito non mi ricordo a che cosa avevamo messo gli alberi avevamo fatto di roba parecchia roba strana avevamo fatto mi ricordo sul 19 comunque direi che possiamo partire a qua c'è la la pozza dei liquami va bene che mi sa che dovremmo tenere a questo punto e abbiamo già un tot di mucche quanto sei carina quanto sei carina anche tu mamma che belle le mucche raga che belle le mucche ma fatevi vedere un po non siate timide ma che meraviglia quante mucche abbiamo noi in tutto ciò vediamo un attimo animali abbiamo bruna svizzera e olstein abbiamo 10 di olstein e 5 brune svizzere ok non bisogna dire totale razione mista fieno e erba per il momento in produzione al 100 per cento e in salute al 100 per cento allora raga direi che come primo passo quindi andiamo a settare il punto qua in farm con store delivery iniziamo a prendere un primo trattorino perlomeno ovviamente a regi track l'ho venduto subito l'elettrico raga subito subito proprio allora vediamo un attimino cosa possiamo prendere di abbastanza carino non troppo impegnativo sicuramente perché dobbiamo mantenere un po di soldini e quindi adesso vedo un attimo cosa abbiamo di bello allora raga direi che come primo trattorino ci andiamo a prendere questo bellissimo massi ferguson 55.105 ma si dai momentaneamente rimaniamo anche a 105 perché tanto che ci frega di dover andare per forza al massimo adesso per il momento rimaniamo così mi prendo ovviamente il tre punti davanti perché la zavorra non la voglio abbiamo varie tipologie di aspita addirittura 9 tipi di targhe a differenza della mappa hot baileron che avevamo solo due tipi stile francese e stile americana invece qua abbiamo veramente un sacco di tipi ma guardate quanta roba possiamo mettere allora raga ho trovato la quadra per la targa mi ci ha voluto un po però l'ho trovata alla fine ho dovuto scrivere fs 22 perché queste prime due lettere che sono r e r di erlingratt praticamente non sono modificabili come vedete e devono rimanere per forza così quindi ho trovato questa tipologia che comunque mi piace allora 83.500 euro acquistiamola perfetto allora direi che non abbiamo campi attualmente ma abbiamo l'erba quindi direi che partiamo a bomba con la falciatura perché non mi segna che questa è a perché questo dobbiamo crearlo il campo a sì che per campo che allora perché non me lo segna scusate perché non mi segna questo pezzo di campo per quale motivation non si sa va bene comunque prendiamo a questo punto ancora una falciatrice che comunque ci serve vediamo un po falciatrice allora abbiamo questa qui di default la la nusel la stip nusel e prendiamo anche una da metterci attaccata dietro ma giusto per averci quella dietro ma una a poco prezzo e se possiamo trovarla che si possa attaccare e dai anche se non mi fa è proprio impazzire però prendiamo la cun laterale dai momentaneamente poi vediamo sì che potevo guardare anche i prezzi in offerta ma non c'è nulla in realtà per il momento va bene allora andiamo con la nostra bella uuu bellissimo bellissimo raga davvero bellissimo allora eccoci qua raga pronti per partire con questa appunto nuova stagione qua sulla mappa erlangrath direi che possiamo a questo punto partire e andiamo di sfalcio di erba parte lo sfalcio sì che parte vediamo un po vediamo un po bellissima 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 non so cosa farci con quest'erba poi vediamo ah devo sistemare un attimino però le impostazioni di gioco un secondo ok perfetto in teoria adesso dovremmo esserci bello tornare sulla erlangrath raga mi è mancata davvero tantissimo mi ha fatto davvero piacere raga sono curioso di fare un attimo una roba vi ho detto che vi stavo per fare il timelapse ma in realtà non ve lo faccio perché sono curioso di andare a vedere una cosa perché da qua in realtà non la vedo più ma non c'è più il campanile adesso io non mi ricordo ah sì che c'è il campanile eccolo là eh non lo vedevo più ah anche l'hotel è laggiù c'è ma c'è tutto allora vediamo un attimino qua c'è la segheria ok mi ricordo bene la segheria andiamo un po più piano perché sennò lagga terribilmente qui la segheria me la ricordo con la vendita del cippato che abbiamo fatto mega vendite l'avevamo messo la vendita delle tam per esempio mi ricordo qui abbiamo la vendita poi con il treno per vendere barbabietole quelle cose lì chissà se poi il treno in stile sì penso sia uguale a quello del 19 quindi stile europeo qua altra vendita la vendita della filanda mi ricordo qua c'era la vendita della filanda se non mi ricordo male però adesso sì adesso ovviamente si può anche comprare il punto esatto perché qua poi si possono fare da quello che so anche i tessuti probabilmente credo ed ecco qua la nostra bella chiesettina della erlingratt chissà se le figure all'interno della chiesa sono sempre ortaggi oppure no comunque un po è cambiato sì sono sempre ortaggi frutta e verdura eccola qua bellissimo al posto delle immagini sante abbiamo la frutta e la verdura che per un gioco di agricoltura credo sia la santità più alta che ci sia a questo punto bellissimo comunque sì devo essere sincero un po è stato modificato tipo questa zona qua ovviamente prima non c'era o comunque c'era ma in maniera diversa sì sì è stato parecchio tutto modificato volevo andare a vedere se è identico il punto dello store in teoria lo store dovrebbe essere questo qua concessionario lo store è totalmente identico bellissimo poi qua avevamo il campo 19 che mi pare che era uno dei campi del collega nella sua serie che in questo caso c'è patate meglio non guardare troppo da vicino bello bello veramente raga qua in teoria dovrebbe essere la cioccolateria volevo giusto vedere così un'anteprima di più o meno tutti i posti che avevamo già visto tempo fa insomma va bene continuiamo qua con la falciatura questa volta vi faccio davvero il timelapse allora dai direi che mi sono iniziato già a stufare ecco sta storia mo adesso mettiamo un po di operaio vediamo se in questo punto qua così dritto l'operaio magari riusciamo a metterlo io vorrei che andassi un po più dritto perché vai così storto cioè cos'è che ti porta ad andare così storto vai dritto niente lui deve andare storto così come piace a lui vabbè io glielo lascio fare raga perché secondo me poi alla fine una volta che lui poi trova la sua quadra secondo me poi lui riesce ad andare come dice lui e quindi completarmi il campo nella maniera più decente spero che mi riesca a dare una mano perché sarebbe fantastico nel frattempo nel frattempo io direi che ci possiamo andare ad acquistare innanzitutto un altro trattore perché dobbiamo andare a portare l'acqua che ce n'è veramente pochissima 1210 litri ai nostri bei animaletti e poi direi che ma la botte intanto dove si trova ok la botte si trova qua insieme alla alla imballatrice e al cassone da carico ok e poi dobbiamo andare raga praticamente a voltare metà voltare metà adesso non so precisamente come fare ma penso che metà la voltiamo e la portiamo a fieno e metà la teniamo così com'è la lasciamo ad erba insomma e credo che un fiatino possiamo permettercelo questo fiatino è una mod è una mod che si trova nella sezione mod del gioco targa posizionata allora va a 25 chilometri all'ora cambio manuale 150 cavalli eccolo qua che bello con me all'interno e prendiamo a questo punto la botte e iniziamo a raccogliere un po di acqua credo che da questa mappa non scampi il fatto che io devo per forza andare a prendere l'acqua da una cisterna e quindi pagarla penso che sarà per forza così allora dai raga forse ho trovato il punto per l'attacco dell'acqua bene carichiamo la nostra bella acquetta in teoria speriamo di poter uscire poi da di qui perché penso che l'abbiano fatto apposta questo punto così un po più cioè meno marcato rispetto agli altri come vedete c'è tutta questa zona meno marcata ok perfetto ce l'abbiamo fatta raga ce l'abbiamo fatta bene via e andiamo verso casa a consegnare l'acqua alle nostre belle mucchette oh fa fatica raga comunque fa fatica si sente la fatica vera è proprio specialmente adesso che siamo qui in montagna si sente si sente davvero allora eccoci arrivati comunque adesso facciamo una bella manovrina e andiamo a consegnare l'acqua alle nostre belle 15 mucchettine che io sinceramente già ho piacere di vedere e di tenere e di andare ad allevare ok raga perfetto e abbiamo fatto in teoria adesso le mucche dovrebbero essere pronte acqua 6.000 litri ok produtivi produttività è salita al 5 per cento perfetto dobbiamo metterli solamente la razione mista no vabbè ha tralasciato quel punticino lì ma chi se ne frega va bene direi che a questo punto possiamo allora andare a recuperarci un voltafieno e iniziare a voltare una parte dell'erba allora prendiamo questo bel vaicon da 16.500 euro ci sarebbe stato anche il kun da 16.000 ma dato che lo prendiamo sempre il kun perché non cambiare un po' quindi prendiamoci il nostro no vai dritto magari grazie allora diciamo che dovremmo in teoria tracciare un uh è bello ampio caspita forse un po' esagerato ma non mi sembrava nel 19 così ampio eppure c'era il vaicon me lo ricordo il vaicon eppure non era così ampio allora circa la metà del campo dovrebbe essere io direi che la metà del campo la facciamo coincidere con questa zona qui allora andiamo praticamente da qua abbassa e accendi e andando magari dritto però ovviamente e questo in teoria dovrebbe essere già fieno se io non sbaglio se io non sbaglio vediamo un po' in teoria sì eh in teoria sì ok non lo so non so se posso vedere se questo è fieno sì ma comunque si vede tranquillamente che è fieno eh che bello raga che bello che bello che bello vedere queste cose però devo andare a falciare quel pezzettino lì ma sì prendiamoci la ebi dai per fare un pezzettino togliamo giusto queste zone qui così almeno abbiamo tutta una bella zona falciata e togliamo anche tutta questa zona qua che è giusto un pezzettino almeno proviamo anche la bella a ebi che non provavamo già da un bel po' di tempo da quello che mi ricordo ma bellissimo il carterino davanti che si muove così in stamaniera non si muoveva sul 19 si è mezzo bagato o no non si muoveva sul 19 da che io ricordi ok raga ultimo pezzettino giusto per completare quella che è oh che bellezza veramente abbiamo falciato tutta sta zona qua tutta con la ebi buon perfetto a questo punto allora continuiamo con la falciatura con voglio dire la voltatura dell'erba eh a fieno ovviamente devo dire la voltatura ha un'animazione veramente strana se posso essere sincero non mi fa proprio impazzire sembra proprio un che la non lo so la butti come se fosse non lo so mi sembra alquanto strana mi piaceva molto di più quella del 19 quindi piccola nota di demerito se devo essere sincero per quanto riguarda eh questa lavorazione certamente che come lavorazione è pur sempre molto molto carina quindi ok raga allora faccio un attimo andare all'operaio che tanto oramai è quasi finito vorrei stare solo attento che non mi vada a oltre quello che è il percorso che io gli ho prestabilito ma adesso ci vado a dare un'occhiatina qui abbiamo praticamente quasi finito manca secondo me un'ultima passata massimo ancora due poi qua ci siamo così poi qua possiamo venire a ranguinare iniziare a passare l'imballatrice poi l'avvolgiballe ovviamente per iniziare ad avvolgere e fare insilato che poi servirà ovviamente per la razione mista e ok raga abbiamo portato tutto a fieno nel frattempo anche l'operaio con la falciatrice dovrebbe aver terminato quindi dovremmo già essere a posto allora andiamo a posare quello che è il nostro bel volta fieno lo andiamo a posare qui perfetto allora prossimo passo è quello di allora poso un attimo il fiattino perché voglio usare anche un pochettino il massi ok perfetto abbiamo posato tutto prossimo passo sarebbe quello di andare a prendere un ranguinatore prendiamo il samaz che lo paghiamo praticamente 20.000 euro ma che già questi di base non è che mi fanno proprio troppo impazzire questo abbiamo pagato parecchio ed è comunque poca metratura allora iniziamo a ranguinare quella che è almeno il contorno del fieno senza andare magari addosso all'erba e senza rubare niente all'erba ecco così poi una volta fatto ciò abbiamo il nostro bel contorno e siamo tranquilli ok perfetto direi raga che come primo episodio possiamo anche fermarci qua per il momento mi fermo vi ricordo come sempre che in descrizione potete trovare tutti i miei link utili compreso anche un link per acquistare questo ma anche tanti altri giochi scontati detto ciò vi chiedo di lasciare tanti tanti bei like per questo primissimo episodio della stagione 2 della mappa Erlengrat qua del dlc alpino dell'ex dlc alpino direi perché oramai non lo è più detto ciò raga io vi mando un grosso saluto e ovviamente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie.